Davvero, Basul? È la cosa più bella che hai fatto. Sarete sulla bocca di tutti. Tu e lui. Di qualcosa, ragazzo, se no lo offendi. Sono veramente così. È proprio... realistico. È meglio della realtà. Lui resterà così. Tu, invece, Gray, cambierai aspetto. Col tempo, Madre Natura cederà il passo a Padre Basul. Alcune cose sono più preziose perché non durano. Sciocchezza. Diventiamo vecchi e avvizziti perché gli dèi sono crudeli e odiosi. Allora forse dovrei inchiudare la mia anima all'altare di Satana. Per restare come sei? Ottimo scambio. Che ne dite di un altro gene, invece? Tutto quell'abracadabra, infiniti sortilegi, libri rilegati con pelle di neonato, pentagrammi di fuoco, bevute di sangue di vergini. Dorian non si venderebbe mai l'anima. vero, Dorian? Lo faresti? Sì.